Benvenuti sul Funky Taco, io sono Aldo Baglio e adesso apriremo il One Piece. Qui dentro, come mi ha detto il mio spacciatore, ci dovrebbero essere 13 kg di crack. Se mi ha mentito, io chiamo la pula e faccio lo snitch. E uno dice, ma sei un mago? Certo che lo sono. Io sono David Copperfield e io diventerò il re degli immigrati. Qui abbiamo Ruffi, che fa... Don! E qui abbiamo... Wow! Cos'è? Fuck! Ah, qua dentro il poster, che apriremo dopo, molto probabilmente. Qui abbiamo la sovraccoperta del numero 100, insieme al numero 100, mi sembra giusto. Perché uno dice, che fai? Lui ha la mano nera, Sanji aveva la gamba nera per il diabete. Lui ha semplicemente il colesterolo alto e sta diventando Truce Baldazzi. Iscrivetevi al Funkitaco, c'è scritto, fidatevi, 100, 100 volte ogni giorno. Cos'è? Ah, è una locandina per One Piece Red. Wow, che bello, quella che è la figlia di Shanks, anche se in realtà molto probabilmente al 100% non è. E mi sa che c'è un'altra di figlia di Shanks qua. Figlia di Poo. Una cartolina da spedire ai tuoi amici in Congo. Così possiamo dire, ehi amici in Congo, voi non avete One Piece. One Piece è pieno di mari, pieno di acqua. E voi non ce l'avete? Non potete, letteralmente. Vediamo se il mio crack è qua dentro. Srotoliamo qua. Mamma mia, si è chiusa su se stessa. Evviva, evviva. È arrivato Topo Gigio. Come disse mia moglie, me lo aspettavo più grosso. Dov'è il crack? Adesso vado da quel figlio di Poo. No, torna qui. No, torna qui.